Quello pomeriggio senti un botto incredibile, poi dopo un po' vidi che dietro il palazzo altissimo, che separava dove abitavo io rispetto a Via D'Amelio, si alzava una colonna di fumo nera, una cosa impressionante. Pensai a Beirut. E il 19 luglio del 92, quando una Fiat 126 imbottita con 90 kg di tritolo esplode in Via D'Amelio a Palermo e fa ripiombare l'Italia nel terrore, una strage di mafia, la seconda a meno di due mesi da capaci, costata la vita al magistrato Giovanni Falcone. Stavolta l'obiettivo è il collega Paolo Borsellino e domenica, stando a trovare la madre, non riuscirà a raggiungerla, salterà in aria insieme ai cinque agenti della scorta. Una carneficina, Giuseppe Eiala, PM Antimafia, per anni affiancato al pool di Falcone e Borsellino è tra i primi ad accorrere sul posto. Sono inciampato, in qualcosa stavo cadendo e questo qualcosa era il tronco bruciato, questo moncone di cadavere senza braccia e senza gambe, tutto bruciato ed era del mio fratello e un amico, oltre che collega Paolo Borsellino. Oggi, a 29 anni da quell'attentato, il presidente Mattarella ha ricordato il magistrato. Un esempio per i cittadini e per i giovani, la memoria ha detto ci impegna a sradicare tutte le mafie. Da questo pomeriggio a Palermo sono in corso le cerimonie di commemorazione di Borsellino e della sua scorta. Eppure sulla strage di Via D'Amelio restano ancora molte ombre, come il mistero della scomparsa della famosa agenda rossa. Ricordo perfettamente di essermi ritrovata questa borsa e di averla consegnata agli ufficiali dei carabinieri, perché io non avevo nessun titolo per tenerla, in quanto non ero più neanche sostituto procuratore della Repubblica a Palermo, ma ero un deputato del Parlamento. A sostenere il suo ingresso in politica erano stati i suoi stessi amici e colleghi al maxiprocesso. Falcone e Borsellino lo fecero per salvarmi, dice oggi a Iala, con riconoscenza. Mi disse, io ho idee politiche molto diverse dalle tue, Palermo era notoriamente un uomo di destra, io ero capodista del Partito Repubblicano. Però ti aiuto perché secondo me il Parlamento sarà la tua salvezza. Sono cose che non si dimenticano.